Musica Sciopero turismo, adesione superiore al 75% e grande partecipazione alle mobilitazioni di Milano, Roma e Taormina, promosse da Fisaskat, Filcams e Wiltux. Raineri, priorità e rinnovi contrattuali al sostegno al reddito per i lavoratori stagionali del comparto. Contratto terziario distribuzione e servizi, l'assemblea dei 500 delegati Fisaskat, Filcams e Wiltux approva l'ipotesi d'accordo con Fcommercio. Fisaskat, l'intesa rappresenta una grande conquista per i lavoratori del settore, ancora sotto l'effetto della recessione e dello stallo dei consumi. ALES, rinnovo dell'integrativo aziendale per i 700 addetti della società in house del MIBACT, relazioni sindacali, welfare, formazione professionale, punti cardine dell'intesa. Definiti nuovi parametri per l'erogazione del salario accessorio. Rosetta Raso, risultato importante raggiunto dopo diversi anni di trattativa. Tre stelle in cassa integrazione straordinaria fino al febbraio 2016, 60 addetti della società in fallimento dell'orefice. Auspichiamo formalizzazione e proposta acquisizione per offrire soluzioni occupazionali certe ai dipendenti esperti e qualificati del gruppo. Per la cronaca sindacale internazionale, EFAT denuncia un caso di dumping sociale. Bentornati al TG Lab. Grande successo di partecipazione alla protesta indetta dalle federazioni sindacali di categoria FISASCA, CISL, FILCAM CGL e Wiltux a sostegno del completamento dei rinnovi contrattuali del comparto turistico. Allo sciopero, proclamato per il 15 aprile, è aderito a livello nazionale oltre il 75% del milione di lavoratrici e lavoratori dei pubblici esercizi, dei tour operators, delle agenzie di viaggio, della ristorazione collettiva e degli alberghi, che da oltre 24 mesi rivendicano un aumento economico dignitoso e il rafforzamento dei diritti e delle tutele garantiti dalla contrattazione nazionale di settore. I migliaia hanno manifestato a Milano, Roma e Taormina prendendo parte ai cortei e ai commizi sindacali, dove i lavoratori hanno raccontato tutte le difficoltà di un comparto cardine dell'economia italiana e per il quale sarebbe necessario fare di più e meglio anche a livello istituzionale. A cominciare da una rivisitazione della NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego, che dal 1 maggio prossimo avrà pesanti ripercussioni su circa 250.000 lavoratori stagionali del turismo, che vedranno dimezzarsi la durata e il valore del sussidio. Il tema, che ha scaldato gli animi della piazza di Taormina, ha acceso i riflettori sui devastanti effetti che l'applicazione della nuova normativa in materia di sostegno al reddito avrà soprattutto nelle realtà del Mezzogiorno d'Italia, dove i lavoratori del turismo vivono in gran parte di stagionalità. È il segretario generale della FISASCAT Pierangelo Reineri a proporre dal palco della mobilitazione siciliana una possibile soluzione con il superamento della riduzione del 50% della durata e del valore sussidio con l'effettiva corrispondenza ai fini del calcolo della prestazione delle settimane di lavoro prestato. Il turismo nel nostro paese è il 12% del prodotto interno lordo. È un'economia importante. Occorre valorizzare il ruolo del turismo, valorizzare il ruolo di chi lavora nel turismo, tutelare chi lavora nel turismo. È necessario portare avanti una proposta che è quella che noi abbiamo fatto in questi giorni di revisione profonda della nuova indennità prevista per la disoccupazione. È necessario prevedere che la durata dell'erogazione garantisca il reddito a chi lavora nel turismo, altrimenti avremo nel turismo lavoratori sempre più poveri, lavoratori sempre meno disponibili ad un lavoro dignitoso. L'intervento sarà necessario combinarlo tra norme di legge, modifiche che la legge dovrà fare e sostegno al reddito che anche la bilateralità nel settore del turismo dovrà sviluppare nei prossimi tempi. Tra i temi da proporre al Governo anche quello legato al recepimento delle direttive europee in materia di lavoro e servizi negli appalti pubblici. È il segretario generale aggiunto della FISASCAT Giovanni Pirulli ad indicare dalla piazza milanese la ricetta per assicurare una maggiore tutela ai 100.000 addetti negli appalti dei comparti turistici della ristorazione collettiva e dei servizi. È urgente avviare l'iter formale per adottare il sistema di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ha evidenziato Pirulli, come anche sarà essenziale il richiamo nel bando di gara dell'applicazione obbligatoria dei contratti nazionali di lavoro siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi e l'introduzione di norme di tutela normativa che garantiscano la continuità occupazionale nei passaggi di appalto. Dalla piazza romana la FISASCAT ha poi sottolineato la necessità di valorizzare le professioni e i mestieri del turismo a sole due settimane dall'avvio dell'Expo 2015 e a pochi mesi dal giubileo della misericordia annunciato da Papa Francesco, un evento dal grande significato religioso e simbolo della straordinaria apertura della Chiesa Cattolica per invitare a celebrare il sacramento della riconciliazione. Il rinnovo del contratto nazionale di lavoro avrà un ruolo determinante per accogliere con professionalità i milioni di turisti attesi, ha dichiarato il funzionario della categoria Cislina Elena Maria Vanelli. È essenziale per assicurare servizi turistici di qualità, confermare le regole contrattuali sul riconoscimento dei percorsi di formazione professionale garantiti dalla bilateralità di settore, come anche sarà prioritario consolidare il welfare contrattuale in tema di assistenza sanitaria e previdenza complementare e valorizzare il secondo livello di contrattazione aziendale e territoriale anche per la creazione di meccanismi di integrazione salariale legati alla produttività e alla redditività, ha concluso Lavanelli. Una sfida che si giocherà a tutte i tavoli negoziali ancora aperti con le associazioni datoriali Fipe, Fiavet, Federturismo, Confindustrialberghi e Angem, con le quali la Fisaskat, insieme alla Filcams e alla Wiltux, tenterà l'affondo nelle prossime settimane tentando di concludere positivamente il confronto e per giungere in tempi brevi al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. Via libera dall'Assemblea dei 500 delegati sindacali riunitisi a Roma per una prima valutazione all'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del terziario e della distribuzione dei servizi siglata dalle federazioni sindacali di categoria Fisaskat, CIS, Filcams, CGL e Wiltux con l'associazione datoriale Confcommercio lo scorso 30 marzo. La Fisaskat ha commentato positivamente l'approvazione dell'intesa da parte dell'Assemblea dei Quadri e dei delegati sindacali. Dopo dieci anni questo è il primo contratto nazionale del terziario della distribuzione dei servizi che come parti sindacali abbiamo siglato unitariamente condividendo pienamente i contenuti di un'intesa che intende supportare il lavoro anche attraverso i meccanismi di flessibilità contrattata ha dichiarato il segretario generale della Fisaskat Pierangelo Raineri. Fare sindacato vuol dire anche affrontare i problemi generati dalla crisi e senza demagogia individuare soluzioni alternative alla riduzione del costo del lavoro ma proiettata al mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali. L'Assemblea Unitaria ha espresso parere positivo sull'aumento economico stabilito in 85 euro al quarto livello di classificazione e sul riconoscimento di un elemento economico di garanzia per l'effettiva affermazione del secondo livello di contrattazione. Ampia condivisione anche sulle nuove norme sul mercato del lavoro per il sostegno all'occupazione e alla ricollocazione sull'estensione della normativa sull'apprendistato come anche sul capitolato contrattuale e sull'attuazione della nuova governance e della bilateralità di settore. L'aumento economico e l'evoluzione della normativa contrattuale ha dichiarato il segretario generale della Fisaskat Pierangelo Raineri rappresenta una grande conquista per i milioni di lavoratrici e lavoratori del commercio, della distribuzione dei servizi alle dipendenze di imprese che non dimentichiamo subiscono ancora gli effetti della recessione e lo stallo dei consumi nonostante qualche timido segnale di ripresa. L'ipotesi di accordo siglata con ConfCommercio sarà nelle prossime settimane sottoposta all'approvazione dell'Assemblea su luoghi di lavoro. Buone notizie per i 700 dipendenti della ALESS SPA, la società in house del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. La Fisaskat, insieme alla Filcams e la Wiltux, ha siglato con la direzione aziendale l'intesa di rinnovo del contratto integrativo aziendale, intesa che avrà un'efficacia retroattiva con decorrenza dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016. Sistema di relazioni sindacali, welfare aziendale e formazione professionali sono i punti cardine di un accordo che intende riqualificare gli addetti alle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Dicastero. Il nuovo integrativo ripristina il sistema di salario variabile per i lavoratori con la definizione dei nuovi parametri di qualità e del sistema di valutazione ai fini dell'erogazione del salario accessorio che potrà superare 360 euro all'anno. In tema di mercato del lavoro, al fine di favorire la stabilizzazione dei contratti, viene ridotto a 30 mesi il termine stabilito dalla legge per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Il sistema di classificazione viene integrato con due nuovi profili professionali, addetto a assistenza al pubblico e alla vigilanza e addetto alla digitalizzazione e informatizzazione degli archivi. Introdotte anche norme per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con la possibilità di usufruire del congetto parentale ad ore. Positivo il commento del segretario nazionale della FISASCAT, Rosetta Raso. Ad un anno e mezzo dalla scadenza siamo riusciti a rinnovare un integrativo aziendale che restituisce dignità ai lavoratori in attesa di risposte da 18 mesi, ha dichiarato la Raso. Anche puntare sulla leva della formazione professionale contribuirà ad accrescere le competenze e dunque sulla qualità dei servizi prestati. Si chiude con l'accordo sull'accesso alla Cassa Integrazione straordinaria l'avvertenza dei 60 lavoratori della società a tre stelle in fallimento. Il trattamento di sostegno al reddito sarà erogato con decorrenza dal 19 febbraio 2015, data di presentazione dell'istanza di fallimento. Il periodo dell'integrazione sarà di 12 mesi fino al 18 febbraio 2016. Nell'ambito del piano di gestione degli esuberi, la società ha comunicato che avvierà formalmente una procedura di licenziamento collettivo. L'intesa che verrà siglata con i sindacati avrà quale unico criterio di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità la non opposizione di questi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il segretario nazionale della FISASCAT, Vincenzo Dell'Orefice, si è espresso sulla possibile formalizzazione di un'offerta di acquisizione societaria. Auspichiamo che si palesino degli interessi imprenditoriali seri per rilevare tutti o parte dei negozi attualmente costituenti la società, ha dichiarato Dell'Orefice. Crediamo sia opportuno offrire credibili soluzioni occupazionali a dei dipendenti esperti e qualificati, il cui profilo professionale è stata la vera risorsa dell'attività commerciale sinora svolta. Ed ora passiamo alle notizie di cronaca sindacale internazionale. EFFAT, il sindacato europeo che rappresenta i lavoratori del settore alimentare, agricoltura e turismo, e il Consiglio del lavoro europeo hanno denunciato il licenziamento collettivo di 37 persone fra dipendenti e quadri del settore vendite, richiesto da Barry Calbò, multinazionale svizzera del cioccolato. I licenziamenti riguardano le unità di vendita all'ingrosso in Belgio, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Le funzioni verranno tutte trasferite all'Ozio in Polonia. L'atto compiuto da Barry Calbò costituisce una grave forma di dumping sociale, hanno denunciato i sindacati. Ci salutiamo e vi ricordiamo che è possibile consultare il TGLab anche su Facebook e YouTube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at Fisaskat. Per segnalazioni e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. La Fisaskat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisaskat CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisaskat, insieme alla Felsa CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisaskat, la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela. Grazie. 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 Grazie.